Eccomi qua, scusate l'assenza ma questa mattina ho studiato, questi sono giorni veramente impesanti però sono a Roma, oggi è stata una giornata importante, sono veramente contento perché ho rimesso le mani su un progetto che avevo accantonato in realtà ci tengo tantissimo, veramente tanto e non vedo l'ora di farvelo scoprire e sarà breve e quindi niente, sono super 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 contento e non vedo l'ora di farvi scoprire tutte le cose che stanno arrivando Amo dove lo volevi prendere? Cioè tu i bagagli dove li volevi ritirare? Cioè raga stavamo sbagliando, vabbè comunque devo prendere il bagagli Ragazzi la nostra peridità ce l'ha fatta mentre scorre Bito Menossi ma guardate il video precedente stava rischiando di rimanere a terra perché se presentate in aeroporto senza carta di identità solo lei può fare una cosa del genere della serie è solo una VIP, fatemi passare lo stesso, chiudiamo così con Greta, ciao